Vi presento due ragazzi straordinari, uno è Gregorio Paltrinieri, campione olimpico in carica nei 1500 metri di stile libero, tre medaglie d'oro appena vinte agli europei in corso a Budapest, ieri un altro straordinario argento nella finale di 1500 stile libero, insomma che dire, un grande campione italiano. Ciao Gregorio, bentrovato, benvenuto. Grazie, buongiorno a voi. Ti fa arrabbiare che la piscina è chiusa? Ma guarda, fa arrabbiare, io penso soprattutto alle giovani generazioni, insomma. Io ho sempre parlato di questo sogno che ho seguito da piccolo e non era il sogno di diventare campione olimpico, era il sogno di stare insieme ai miei amici e di fare quello che volevo fare. Come dicevate prima in studio, da fuori sembra ci sia qualche controsenso, nel senso sono stati aperti tanti luoghi chiusi e non capisco perché le piscine non debbano essere aperte. Si può parlare di ristoranti, si può parlare di mezzi pubblici, si può parlare di luoghi di lavoro, un sacco di cose. Le piscine continuano ad essere chiuse ma appunto io vorrei tralasciare l'aspetto puramente sportivo e puramente agonistico e parlare... Hai ragione perché è l'altro aspetto che interessa a tutti, tutti abbiamo fatto piscina da piccoli, i miei figli hanno adorato fare piscina, era un momento meraviglioso per i bambini e i ragazzini, hai ragione Gregorio? A me scrivono un sacco di persone e vedo comunque stando nell'ambiente tanti giovani che sono distrutti. E non so perché bisogna privarli di un futuro come il nostro, quello che abbiamo avuto. Secondo me lo sport insegna tantissimo, le piscine sicuramente sono luoghi chiusi, sicuramente c'è da fare attenzione, sicuramente possono essere presi altri provvedimenti ma ci sono bambini che sono due anni che non fanno niente, il nuoto è uno sport anche molto praticato quindi sono sicuramente tanti bambini e a me dispiace per loro perché non stanno vivendo quello che abbiamo vissuto tutti. Allora fermate un attimo Gregorio perché voglio...